E siamo ad High Street, il cuore del village di Wimbledon. Spesso avete sentito parlare di quello che è l'area dove i giocatori tendono a prendere casa per stare vicini all'impianto dell'All England Club. Eccolo qui, questo è il village, non è proprio Wimbledon, perché il centro di Wimbledon è distante circa 12 minuti a piedi da dove siamo in questo momento, però questo è il cuore vero della vita normale del terzo slam dell'anno del torneo londinese. Qui i giocatori prendono casa, frequentano il quartiere, vanno dal panettiere all'alimentari, qualche volta anche a mangiare una pizza, perché no? In poche parole, qui si svolge tutto quello che non avviene sul campo da tennis a Wimbledon. Da Maria Sciarapo va le sorelle Williams. Un po' tutti cercano di frequentare l'area delle village e noi cercheremo in questi giorni di raccontarvela. Partendo dalle vetrine, perché ci sono delle vetrine bellissime per il quartiere, ovviamente è un periodo di festa, è un periodo anche di grandi affari. Sì, adesso inizia il torneo, aspettiamo, saremo un po' busy qui, aspettiamo anche tanti famosi tennisti che vengono qua, magari Nadal, è stato qui anche Sharapov, è stato qui venerdì scorso, adesso aspettiamo il busy. Dunque non c'è negoziante che non abbia allestito una vetrina ad hoc proprio per il torneo, con palline da tennis, con racchette di legno, con fotografie, un po' di tutto, un po' di fantasia. E provate ad immaginare anche voi cos'è Wimbledon durante il torneo. Grazie a tutti.